Sei giorni dal 9 al 14 febbraio in cui Avellino si trasformerà in una piccola fabbrica di cioccolato. Attività e intrattenimento al sapore di bacche di cacao con stand gastronomici soprattutto lungo il corso Vittorio Emanuele dove da qualche giorno già fervono i preparativi per il montaggio di gazebo che ospiteranno le aziende. 112 del settore cioccolatiero e oltre mille referenze di prodotti per un totale di circa 100 tonnellate di cioccolato pronte a ricoprire la città. Questi i primi numeri di Eurocioccolate Avellino in programma dal 9 al 14 febbraio prossimi per un San Valentino all'insegna della dolcezza più amata il cibo degli dei. Il 2024 sarà un anno intenso durante il quale Eurocioccolate il popolare festival del cioccolato nato a Perugia nel 94 celebrerà il proprio terentennale e lo farà con un ricco calendario di iniziative accuratamente selezionate che vedono proprio il capologo irpino fare da tripista grazie ad uno special edition tutta da gustare. Tutti gli amanti del cioccolato e di San Valentino potranno festeggiare la ricorrenza degli innamorati degustando i prodotti del loro nero. L'evento fortemente voluto dall'assessorato al turismo guidato dalla vice sindaco Laura Nargi si articolerà in vari luoghi del centro cittadino e vedrà in corso Vittorio Emanuele sede del Eurocioccolate show la sua principale direttrice fino a toccare piazza della libertà cornice perfetta per l'imperdibile cioccolab l'esclusivo percorso 3 to bar e l'immancabile fabbrica del cioccolato. All'estremità opposta l'ex cinema Eliseo è pronto ad accogliere sia l'esilarante ciocco circus che una golosa Italia del cioccolato. Non sono mancate le polemiche soprattutto sui fondi rilanciata da Giordano e da Ciampi sulle tradizioni del carnevale calpestate in nome del cioccolato. Il sindaco festa smorza le polemiche politiche sollevate dall'opposizione sulla mancanza di trasparenza e sui costi legati all'iniziativa archiviandole come polemiche di bassa lega frutto di sentimenti di frustrazione.